Questa è l'ex caserma Piave di Belluno, un'area abbandonata di 35 mila metri quadri che in passato era una base militare e diventerà su nostra proposta una cittadella del no profit in collaborazione con l'amministrazione comunale. La casa di beni comuni ha presentato un progetto di recupero per costruire qui uno spazio sociale autogestito aperto alla città. Noi volontari abbiamo iniziato la scorsa estate a ripulire quest'area sfalciando la vegetazione cresciuta negli anni. I luoghi richiesti sono una palazzina, due hangar e uno spazio verde. Questa è la casetta, uno stabile in muratura di 200 metri quadri che sarà la base operativa del progetto. Butteremo giù questi muri per creare uno spazio aperto che possa ospitare diverse attività, spazi di studio, musica, teatro, un piccolo bar, un internet point ed un luogo dove fare assemblee di gestione, e di discussione dove condividere idee e progetti. Questi sono gli hangar, 300 metri quadri nei quali vogliamo costruire due spazi distinti. Uno sarà dedicato alle attività sportive, un campetto di basket e calcetto, una palestra di arrampicata, arti marziali, skate e tutte le attività che chi parteciperà all'assemblea vorrà realizzare. L'altro sarà dedicato all'autoproduzione ai laboratori, con un'officina, una falegnameria, mercatini del riuso e del biologico e spazi espositivi. Per realizzare tutto questo dovremo trasformare e ristrutturare queste aree. Abbiamo stimato in 10.000 euro la cifra iniziale necessaria all'acquisto dei materiali e per la prima parte dei lavori. Questa somma sarà a carico degli attivisti e di coloro che supporteranno il progetto, mentre il lavoro vivo sarà svolto dai volontari della Casa dei Beni Comuni. Metti il tuo mattoncino, costruisci con noi la Casa dei Beni Comuni. Come? Vai sul sito www.produzionidalbasso.com, digita nella home page Casa dei Beni Comuni. Lì troverai tutte le informazioni nel dettaglio e il progetto completo scaricabile. Clicca sul tasto verde Sostieni, registrati inserendo i tuoi dati e scegli se prenotare una o più quote da 10 euro l'una. Così ti impegnerai a versare la somma solo alla fine della campagna se avremo raggiunto l'obiettivo di 10.000 euro. Così facendo riceverai l'attestato di socio sostenitore del progetto. Sostieni anche tu la Casa dei Beni Comuni.